Un progetto da realizzare sul territorio del Comune di Vittoria, un laboratorio che sappia esprimere una grande opportunità di conoscenza e di crescita sociale e culturale per tutta la comunità rappresentata dall'immenso mondo del movimento sportivo e dell'aggregazione giovanile e la prospettiva di ampio respiro elaborata dalla associazione Reset in vista di un futuro in cui di queste attività non si deve poter fare almeno. Oggi lo sport, sottolinea il segretario dell'associazione Alessandro Mugnes, è diventato un fenomeno sociale ed economico di primaria importanza, risultando in assoluto lo strumento migliore per educare, formare e favorire l'integrazione e la solidarietà in grado di guardare con attenzioni più giovani e rivolgersi all'età matura. In un momento in cui da molte parti si segnala la fase delicata vissuta dalle tradizionali agenzie educative, famiglia, scuola, il movimento sportivo può e deve farsi carico di queste responsabilità in quanto i movimenti aggregativi che riesce ad esprimere risultano essere l'ancora di salvezza per molti giovani. Dopo il fallimento dichiarato delle azioni di recupero sul disagio giovanile e sull'uso delle droghe, le attenzioni devono essere rivolte in particolar modo verso la prevenzione e lo sport è il miglior strumento per la concreta opera preventiva. Così come è appurato che l'attività fisica da sola è in grado di diminuire il rischio di mortalità per qualsiasi malattia, abbiamo quindi bisogno, continua Mugnas, di costruire assieme conoscenza, coesione, investire sui luoghi dei giovani per la produzione culturale dei giovani stessi e la loro formazione, promuovendo anche sani stili di vita. Investire nello sport significa investire nell'educazione, nella salute e nella cultura dei giovani e della società civile. Senza questa formazione culturale di base rischia di diventare molto impegnativo soprattutto per i più giovani il cammino verso il futuro. Reset lancia quindi anche la proposta. Per tutti questi motivi continua Mugnas e opportuno poter lavorare sin da subito alla nascita di una fondazione per lo sport con la logica di raggruppare tutte le società sportive presenti sul territorio comunale con l'obiettivo di dare vita a un grande progetto per la comunità. La nostra è una città con oltre 60.000 abitanti, non è di certo una metropoli e questo progetto è destinato ad adattarsi al meglio proprio per una città considerata a misura d'uomo. D'altro canto, stiamo parlando, continua Mugnas, di un'esperienza che già in altre parti d'Italia ha riscosso uno straordinario successo e non vediamo perché non possa essere replicata su questo territorio con un altro obiettivo di cruciale importanza, quello cioè di recuperare tutti gli impianti sportivi della nostra area che al momento risultano essere sotto utilizzati o che hanno bisogno di essere ripristinati. C'è tanto lavoro da fare, conclude il Reset, ma le prospettive sono sicuramente interessanti.